oggi è il 10 di aprile siamo ritornati ai monti abbiamo il camionetto acceso che devo dire ci sta molto ma di molto bene ho dato un'occhiata fuori e siamo a 5 sopra 0 5 sopra 0 la luna comunque contenta contenta se si dice di sì ma la più contenta di tutti eccola qua è la nostra amicia amicina che dorme che dorme che dorme e qui al camino ha già preso padronanza si è ricordata di tutte le cose tutti i particolari di tutte le sue vecchie abitudini che faccia da schiaffi dice che c'è la faccia da schiaffi ha impunita più che altre amicetta saluta un po saluta gli amici ho trovato oggi come alle 2 2 e mezzo una buona manatina di dormienti che sono già stati puliti anzi guarda la luna ora riprende un attimino la miscia vado a prendere i dormienti stai sulla miscia forse in frigo eccoli riprendimeli un po' per favore vieni giù perché non è così non è che sia andato molto lontano perché alle due e mezzo un quarto alle tre ero già di ritorno, l'ho trovato perché servono per domani una ottima pasta asciutta e domani andrò in grande preparazione scarpi, io avevo le scarpi da tennis, figuriamoci quindi i dolmietti che ovviamente sono già puliti, già pronti guardate bene e non avevo la macchina fotografica e quindi non ho potuto riprenderli in diretta dal terreno